E siamo tornati su Minecraft la nuova vanilla ma che bello E c'è di nuovo Mirko e quello scemo lì dietro Ok allora più o meno qui siamo un po' avanzati E mentre che Mirko non c'era giocavo con Cesto abbiamo trovato tipo quel tempio in mezzo alla giungla Vero? Sì sì e lui non sapeva cos'era Cesto è scemo e non sapeva cos'era Vabbè allora oggi cosa facciamo? Oggi costruiamo le case ok? Quindi andate a pre... Ah no prima dobbiamo andare un attimo nella tomba del pappagallo che ho ucciso Cesto Cercava da tanto un pappagallo verde L'ha trovato e con quest'arco l'ho fatto così Mi do dei semi E non ne ho per ora Francesco 2022-2022 Ma che triste Vabbè dai No dai non sono stato io Basta basta Prendilo dopo Guarda qui ci sono altri due semi Prendili Guarda ce li ho io Prendi Dai però adesso vai a dormire Ok 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 Adesso io inizio a fare un po' Scusa no prima devo fare un po' l'armatura Vedo Mirko che combatte Mi faccio l'armatura e poi ci andiamo Non ci credo che non mi abbassano Dove sono i pantaloni? Ok ho tutto E dai io inizio a costruire Iniziate anche voi invece di picchiare gli uccelli Mirko deciditi un posto in cui vuoi fare la casa Però non al centro Perché lì ci sono cose magiche Che tra cui non dovrei fare vedere nel video Però adesso le faccio vedere Ecco tipo lì Guardate è stato cesto ovviamente a farli Eh si l'avetevi Guardate quanto è alto quel bambù Avete capito perché odio cesto Mi sta antipatico Ecco perché mi sta antipatico cesto In fondo 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 mi vuoi bene Ti vuoi aver ucciderlo? Io E l'ammazzare dai non l'ammazzare Ci penso io ci penso io Ah no l'ammazzarlo Chi magico Eh? No no niente niente Calmati calmati No 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 non mi calmi Sei un comando Sporno tu No bambino Sporno tu Eh fai niente Vuoi che lo faccia Vuoi che lo faccia Io mi ho almeno trovato un foto per farmi la tasca. OPERO! Andare un attimo in bagno durante i video, aspettate. Adesso durante il video mi sono tenuto lo scioccolone. Va bene, tra te io vi faccio uno spazio pubblicitario. Ricordatevi iscrivervi al canale di Fabucesco perché così siete persone brave ma specialmente magiche che sanno il fatto loro e non si fanno mai mobilizzare come qui. E viva e viva Dio Benito. Ricordati che se tu hai registrato questa parte tienila nel video perché così vanno qui iscriviti. Grazie alla mia bellissima voce da Orlinton Inco di Rosario. Orlinton Inco di Rosario. Sono tornato! Ok, va bene. Ok, va bene. Va bene, dai. Voi come vi sta andando un po' questa... Mi si è rotto l'ascia. Come vi sta andando la vita a voi? Vale, bravissimo, bravissimo. Sono felice per te. Sono felice per voi. Ma sai, tra un po' che Mirka adesso farà di un video, fra qualche mesetta, inizierò a dirgli queste cose pure a lui, però in fondo vi voglio bene. Sì, dai. In fondo in fondo. Eh, ehi. In fondo in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, in fondo. E quello non lo ricordi già. Sì, abbiamo capito, ok? L'abbiamo capito. Quanto in fondo, fra c'è. Ma tipo... Troppo in fondo. È troppo in fondo, dai. Tipo nelle parti. Troppo in fondo. Troppo in fondo di famiglia. Dopo gli organi. E manchi da tanto, quindi ti lascio fare quasi tutto adesso, eh Mirko? Oppure solo perché ho l'armatura in ferro e sai che ti ucciderai. Mirko ce l'ho anche io l'armatura in ferro. Ok, va bene. Allora, tagliamoci. Oh, allora, c'è... No, no, no. No, aspetta, devo fare un attimo una cosa. Allora, allora, io... Allora, capiamoci, capiamoci, capiamoci un attimo. Allora. Quando io ti insulto, tu non devi rispondere, ok? Perché è la verità? Cosa? Cosa? È vero, è vero. Posso picchiarlo? E va bene, ma non voglio darti comunque ragione. Sarebbe un peccato gravissimo. Adesso vengo un po' a controllare come sta essendo un po' il vostro lavoro in questo mondo, ok? Ma io non ho fatto ancora niente. Vediamo Mirko. Mirko è in punizione. Ma sei troppo lontano, però, eh? Non è vero. Basta che vai di questa e ci sono le vostre case. Vado un attimo da chest. Ciao chest. Qualcuno ha l'igno normale? C'è l'ascia. Comunque la sua casa sta essendo un pochino classica. Eh, va bene, va bene. Sì, invece, eh, sì. Scrivelo in chat, vai. Si può fare in chat, dai. In chat si può fare. Abbiamo fatto delle... Non ho fatto niente. No, ma te l'hai anche tu mentre che l'ho fatta. Ok, allora non lo fa. Mi piace, mi piace, mi piace quello. E si è rotta l'ascia. Sono più simpatico io e a chest. Chi? Ancino, ho sbagliato. Vuoi più bene a me o a chest? A te, a te. Non lo fa a chest. Perché è che va? Dai, adesso però ho dormito. Sennò non voglio più bene a nessuno. Vai, dormite. Dai, bravi bambini. Oh, Mirko non dorme. Ora non gli voglio più bene. Ah, ah, i giorni. Ah, mi... Sono tornati i russi del primo episodio. E' russi, e' russi. No. Ok, dai chest, vai a dormire. No, aspetta, sto essendo attaccato anch'io dai russi. Oh, madre. E' russi, e dai russi. No, non scoppiare da sopra i miei pappagalli. No. Ok, ok. E' dormito, per favore. Eh, dormite, dormite. I miei pappagalli! I miei pappagalli! Ma i miei pappagalli sono morti tutti! Adesso dobbiamo riunirci tutti un attimo al centro del mondo per fare un funerale molto importante. Dovremmo fare proprio un cimitero comunque qua. Per ora facciamo un attimo qui. Ci metteremo dentro Cester. Si Cester ci sarà di sicuro. Cester lo mettiamo qua dentro. Cester sarà uno dei primi che ci arriverà? Dai sottotitoli nel mio ultimo video che dovete andare subito a guardare i studi di Francesco, mi hanno chiamato Cester. Vedete Francesco dallo che la trovarci in zero. Sai che poi la terra diventa lei. La terra diventa lei. Perché deve rovinare sempre tutto? Aspetta aspetta. Siamo un buon edile. Lo volevo fare in tv. Avete dei cartelli? Un regalo da parte più che è un Francesco. Eh si io avevo un cartello ma l'ho messo a casa mia con la scritta se vuoi un mondo più pulito vi voglio venire. Eh vabbè dai allora lasciamo così dai fa niente fa niente dai. Vabbè. Sono un osso e adesso. Poi li cambierò vai 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 vai. Mi sono perso di nuovo. Dai la mia casa ho ricevuta. Porca della miseria non posso uccidere Mirko. Perché il nome è separato? No, ma spianare un po' con il padre spianare. Oma… Nooo, ho messo il giocatore a casa. Allora io ho preso qui un po' di legname ed è cesto e morto. Vabbè. Chi lo vuole cesto tanto? Dai però! Vabbè ma la mia casa è un inferno. perché qui da me com'è meglio secondo ma basta tutti sti buchi che sta succedendo mirko ma io devo fare anche io un po la casa e calmate chi pensa che cesto non sia normale di chi pensa che cesto non sia normale di cesto scemo cesto scemo mirko dillo anche tu cesto scemo no se una cesto cattivo ok migliori appena migliorerai noi ti accoglieremo e ti vorremmo bene forse ok va bene che non lo so comunque se mi stai ancora così antipatico ok ok va bene allora ascoltami tu non mi stai antipatico però a volte fai il bimbo antipatico te lo devo dire ok 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 ed è vero già mirko ti conosce da due giorni e già gli stai antipatico no scherzo mirko è bravo è gentile a parte di quando dice dichiaro guerra madonna ma ti ricordi nella scorsa vanilla che dicevi sempre dichiaro guerra ma sei scemo secondo me non lo dire che sennò ti ti ora ho i comandi magici di mago merlino oh allora vedi che anche la svizzera adesso non è più molto protetta eh quindi però noi siamo neutrali ma perché non parli in tutte le cose neutrale eh vabbè comunque poi magari quando la vanilla sarà un po più potente metterò magari alcune mod oppure non so anche senza mod però dovremmo fare tipo delle città wow devo vipare sta cosa bimbo ritardato poi ci attaccano anche a noi ma poi i russi attaccano anche noi ma poi appunto ma non si giochiano mai ma ci sarei curiosi ma non mi racconta come le giocati ciao ma no ma con le gherri biscotti dai ciao ma no ma non di un biscotto peninsello ma com'è di biscotto è ok va bene che bravo bambino chiudo dentro casa ma ciao ok dai dormite dormite bimbo ritardato basta parlare di russia avete scassato no perché poi do fuoco a te allora io sto facendo il tetto perché sono un bravo bambino ovviamente e si e di si e io sono veloce non è che però una casa molto grande magari poi camera me la faccio più grande allora raga e metto le torce adesso ci incontriamo tutti in piazza nel mondo che tra cui dovremmo fare qualche decorazione per così quando diciamo piazza voi sapete un po meglio dove dobbiamo andare ok vabbè e ragazzi io ho costruito la casa se gli altri non hanno finito finiranno off camera per questo video è tutto ciao